Paola, un elemento chiave adesso è pronto, un elemento premiatissimo e soprattutto appunto un uomo che ci può spiegare come anche di questi tempi i ragazzi non arrancano verso il lavoro ma possono essersi accompagnati in una maniera anche morbida ed entusiasmante. Accogliamo su Padre Pio TV il professor Daniele Manni che già vedo nel maxischermo alle nostre spalle. Buongiorno, oggi vogliamo celebrare anche insieme a lei la giornata mondiale degli insegnanti attori della crescita dei nostri figli, dei nostri nipoti nella scuola che deve essere assolutamente un mattone importante per la crescita di tutta la società, vero Mario Pia? Ma io soprattutto direi che visto che è stato premiato a livello internazionale voglio verificare come dopo un riconoscimento così si arriva agli studenti anche come dire con il peso dell'andare avanti non pensando solo ai riconoscimenti, un po' come per gli esami. Ecco ricordiamo solo con l'aiuto della grafica magari che il prof Daniele Manni nel 2020 è stato insinito del titolo Global Teacher Award 2020 appunto, l'unico italiano finora ad aver ricevuto questo riconoscimento. Prof a te la parola allora come si fa una scuola in grado di dare un contributo significativo alla società in cui viviamo? Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti in ascolto. Come si fa? Allora sicuramente approfitto di questa bella occasione ma soprattutto della giornata praticamente per parlare ai colleghi, per mandare un messaggio ai colleghi. Probabilmente uno dei motivi per cui ho ricevuto qualche premio, qualche cosa è perché costantemente penso ai singoli studenti. Cerco di portare avanti una sorta di scuola, io la chiamo studente centrica. Qualcuno può magari saltare sulla sedia e dire come? Perché la scuola non c'è lo studente al centro. Ahimè, no, non è vero, non c'è lo studente al centro. Nel migliore dei casi c'è la classe al centro. Noi docenti vediamo la classe nel suo corpo e la portiamo avanti con il nostro programma, con le nostre intenzioni. Perché non c'è lo studente al centro? Perché noi non chiediamo ai nostri studenti, ad ognuno di loro, qual è la sua passione, qual è la sua aspirazione, qual è il suo talento, qual è il suo problema a volte nei confronti di alcune materie, di alcune discipline. Troppo facilmente vogliamo i studenti, chiamiamoli disattenti, di non avere un buon rendimento a scuola. Ma quante volte ce li prendiamo in disparte e chiediamo e parliamo con loro e cerchiamo di trovare una strada insieme per migliorare la situazione, sperimentiamo tecniche ad personam, no? Cioè io magari ho quei due o tre studenti che nella mia materica in informatica proprio sono totalmente negati, mi sforzo di cercare di trovare strade alternative per cercare di coinvolgerli. Non è sempre un successo. Eh, professore, io la ringrazio perché lei è stato sintetico ed efficace. Il problema per noi è che abbiamo già terminato per adesso il nostro tempo, quindi vogliamo ritornare con lei anche in una giornata non mondiale, ma nella quotidianità della sua vita di insegnante, proprio perché ci sono moltissimi aspetti da conoscere meglio e anche magari ritrovandoci appunto con un microfono che scrosci di me. Sì, abbiamo qualche disturbo sull'audio, però prof la lascerei concludere ecco con un grazie, grazie. Proprio con un pensiero spot. Buon futuro a tutti. Ecco, molto bello questo augurio per tutti. Grazie, grazie a Daniele Manni, ancora complimenti a chi, buona fortuna a chi non ha un professore così, ma magari pian piano anche le loro vite, no? Miglioreranno egualmente perché poi la forza della scuola sono appunto le capacità di resilienza e soprattutto di affrontare il futuro che hanno i ragazzi.